Aspettiamo che la metto qua vicino, sennò se parlare non parliamo noi. Ersilia ha reagito bene, ma adesso è arrivato il momento di capire se il ragazzo che è di fronte, Andrea, è abbastanza indipendente per lei. Immagino che hai solo tua mamma. No, no, ho pure papà, però vabbè loro sono separati. Con papà ho un rapporto molto sempre di sfida, cioè no di sfida, però sempre, cioè ci attacchiamo sempre. Invece con mamma io mi sto zitta, non parlo, perché se parli lei dopo ti sovrasto. Vabbè, ma poi sono le donne un po' che sono religiose. Sì, ho capito, però se non puoi stare tranquillo perché? Se dovesse piacermi, visto che sono molto diretta, glielo direi subito mi piace, cosa mi piace, primo impatto. È bello fare litigare e poi fare passi, sennò che falle. Sì, però non sempre, capisci? La cosa migliore che mi potrebbe capitare è trovare una persona che mi capisca dal primo momento, quindi capisce la donna che so ne va oltre i miei colori. Tu avevi qualche fidanzata che litigavi tutti i giorni? No, 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 io con lei era proprio lì, non litigavo mai, infatti perciò la cosa non andava bene. Ma io lo posso, litigavo tutti i giorni. E quindi è finita uguale? E' finita perché forse non sapeva quello che voleva. Cioè io so quello che voglio, se io decido te, quello sei, basta. Io non mollo neanche in amore, nel senso se io scelgo quella persona è perché penso che sia la persona adatta a me tutta la vita. Non è che mi viene un ripensamento, qualcosa. Quello sarebbe perfetto a trovare una persona così, nel senso sa che vuole te, fa una decisione e poi non va sgattaiolando da altre parti. No, questo mai, il tradimento mai. Magari perdono, non i tradimenti perché io i tradimenti sono stata tradita e da parte lesa dico no ai tradimenti. Tu sei stato tradito? Entrambi. Hai tradito? Sì. No, non mi piace più. In un giorno, in una giornata, quante volte pensi al sesso? Dipende. Se vede una ragazza formosa, tipo quando sei entrata tu, ti ho visto che comunque meritavi. Ah, meritavo. Meritavo. E' bravo. E' apposta. E' apposta. E' apposta. Per la gente. E' apposta. Grazie a tutti.